Finalmente vediamo le potenti mezzi del vergato asfalti procedere alla chiusura dei vari buchi sulla strada del centro del paese. Qui siamo sui famosi dossi. Questo è uno dei famosi dossi creati negli anni 2000 per far sì che il traffico sia rallentato. Stiamo ammirando le funzioni degli ascoltatori, vediamo anche l'ex titolare della vita perché attualmente è in pensione, è supervisore lui, supervisore dei lavori. Aspettiamo con ansia il vibratore o il compressore? Compressore. Che sistemerà le cose? Che finalmente addolcirà un po' il dosso perché le macchine. Toccavano e i danni sono stati abbastanza iniziati. Stiamo assistendo alla rullatura per l'attorcimento del dosso in piazza dei capitani della montagna. Comune che in attivo finalmente può spendere i soldi che il governo aveva bloccato in questi anni. Grazie. 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 Grazie.